Ma qual è il segreto per diventare famosa? Ci vuole talento, poi ci vuole lavoro, lavoro, lavoro Allora lei ha avuto una botta di culo, di culo, di culo Un'unica certezza Mi so Chanel, perché vado a letto solo con due gocce e limon gelo A Colorado Mi dai il numero di matri? Ah no, quel paese! È più facile essere... E' più facile essere... Colorado L'87% della persona che ami è acqua Giovedì alle 21 e 20 È come litigare con due talichi da 25 Su Italia 1 Grazie